Cortometraggio. Ho un'impressione che sia molto incalzante perché le scene sono molto veloci. Chi sa voi che emozione vita smetterà? Speriamo di passare le selezioni. E ogni volta che lo rivedo mi vengo di me. E' stato faticoso a registrare. Mi veniva sempre da ridere. Speriamo di vedere se la stilata finale.